Gelosia e invidia sono peccati brutti che esistono anche nelle nostre comunità cristiane quando qualcuno usa la lingua per uccidere gli altri. Lo ha detto Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a casa Santa Marta, nella quale ha commentato l'episodio biblico narrato nella prima lettura dal libro di Samuele. Si narra della gelosia di Re Saul per Davide, osannato dalla folla per aver ucciso Golia e sconfitto così i filistei, una gelosia che porta Saul a desiderare la morte di Davide. La gelosia, ha detto il Papa, è una malattia che porta all'invidia, peccati brutti che crescono nel cuore come l'erba cattiva. Chiediamo al Signore di guardare il bene e non uccidere con le chiacchiere per invidia o gelosia. Io, pensando, riflettendo su questo passo della scrittura, invito a me stesso e a tutti a cercare se nel mio cuore c'è qualcosa di gelosia, c'è qualcosa di invidia, che sempre porta alla morte e non mi fa felice. perché sempre questa malattia ti porta a guardare quello di buono che ha l'altro come se fosse contro di te. Questo è un peccato brutto. E' l'inizio di tante, tante criminalità. Chiediamo al Signore, chiediamo al Signore che ci dia la grazia di non aprire il cuore alle gelosie, di non aprire il cuore alle invidie, perché sempre queste cose portano alla morte. Grazie a tutti.